Ciao a tutti amici di Baseline, oggi siamo qui con l'ultimo arrivato di casa Darkglass, il Vintage Ultra. Andiamo a vedere brevemente le caratteristiche del pedale. Abbiamo qui sopra il master, il blend per miscelare il suono pulito col suono distorto, il livello della DI, il livello di distorsione e qui sotto abbiamo l'equalizzazione con bassi, medio-bassi, medio-alti e alti, con switch a tre posizioni per le medio-basse e per le medio-alte, i classici controlli di shape che troviamo anche sui precedenti modelli. Qui abbiamo lo switch per attivare tutto il pedale e qui solo il distorsore. Uscita DI, qui di lato troviamo il tastino per la messa a terra della DI. E adesso proviamo a sentire come suona. Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.